che emozione Cichillo e sull'Italia hasta la banda me mettero che lindo Cichillo e il Tana TV vacazione domenica 17 in Italia gassari in Italia un saluto a tutti la prima cosa a fare quando arrivi in Italia è cortare il pelo a stile italiano con il mio pelo perro di fiducia e il pelo il nuovo corte italiano provare un buon zucca e sto con l'acqua non searsi cichillo 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 Molto bene! Grazie a tutti Di spettacolarità, spettacolarità con fischio, che spettacolo Il meglio di mangiare la calabria Parmigiana bianca al pesto con limone 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 Grazie a tutti. Un saluto a tutti i amici del Tano TV. En questo momento in Sudamérica è inverno, mi tome la vacazione e mi vine di vacazione in Italia. Especialmente nel sud Italia, di dove llego io, questa è la terra del Tano, signori. Miren che lindo, è un spettacolo. Voglio dare la grazia a tutti, in questi tre mesi il canale ha cresciuto molto, c'è molta gente che mi segue, c'è molta gente di Chile, di Argentina, di Venezolano, di México, di Stati Uniti. È un spettacolo stare facendo qualcosa in YouTube con un pubblico tan hermoso come voi. È lindo. No se asusten se saquei un video in italiano perché la gente di qui mi ha detto, è un spettacolo in italiano perché non ha capito nulla di spettacolo. E volevo mostrare un po' di quello che è la mia terra. Io vengo da qui. La maggiori della gente quando viene di vacazione in Italia si va a Roma, a Florencia. Allora, voi sapete che il sud dell'Italia è una cosa hermosa. Miren questo mar. Vengono un mar più limpio che questo? Io non penso. È come... No stiamo in lo Caraibi, stiamo in la Calabria, nel sud dell'Italia. Miren che lindo. È lo massimo, chiquillo. È lo massimo. È lo massimo. È lo massimo, la comida è la fine del mondo. La migliora comida italiana se encuentra nel sud dell'Italia. E quali cosa che vogliono sapere di Italia, aca sto, sto listo per fare quali cosa che a te mi pregunte. E in questo video vi voglio mostrare i vacazioni, vi voglio mostrare che fare in solitario, perlomeno lo che faccio, in questo video vi voglio mostrare lo che faccio io quando mi vengo di vacazione in Italia, in mia terra. Chiquillo, grazie a tutti, sono molto, lo voglio molto. e pronto nos vamo a ver di volta con il mio blog. Iscrivetevi al canale, chi non conosce il canale, lo voglio molto. iscrivetevi al canale.